Nella varietà dei dispositivi che abbiamo sviluppato ci sono dei piccoli dischi. Ne saranno poi aggiunti altri nei prossimi mesi, negli anni. Durante i nostri test di epigenetica abbiamo scoperto che il cellulare è davvero un ottimo strumento. Se però lo usi troppo o troppo vicino alla testa, oppure accanto al cuore o al corpo, le frequenze diffuse dal telefonino penetrano in tutte le tue cellule, trilioni di cellule del tuo corpo. Attraverso l'epigenetica noi volevamo rimuovere queste frequenze negative, cercando però di mantenere la positività dello smartphone. Quindi abbiamo creato i dischi. Sono quattro dischi che vengono attaccati, uno, due, tre e quattro, allo smartphone, creando un campo di energia. Questo campo positivo è così potente che se tu appoggiassi un bicchiere sul telefono e poi berresti dell'acqua, del caffè, del whisky, il tè o il latte, cambierebbero tutti i gusti. Tutti i gusti sono più freschi, hanno tutti un profumo più fresco, più pieno, ed anche la frutta fresca avrebbe un sapore meraviglioso. Potresti versare addirittura del liquido sullo smartphone, ma questa è solamente una dimostrazione per farti capire come sono potenti e che non c'è un'altra tecnologia sul mercato che possa dimostrare, in modo così semplice, che un campo positivo non è solo qualcosa di cui qualcuno parla. Nel contenitore ci sono cinque dischi. Ovviamente quattro li metterai all'esterno dello smartphone. È quello al centro, che cosa serve? Beh, questo è semplicissimo. Nel corso degli anni, forse lo sai già, noi abbiamo sviluppato molti dispositivi indossabili per ricordare alle nostre cellule l'attività a livello intercellulare. Il problema è che le frequenze cambiano o scadono nel tempo, quindi perdono il contatto con il corpo. Così, il disco numero 5 va semplicemente messo sul retro dell'orologio che indossi. Sulla mano sinistra. Entra così in contatto con il tuo corpo. Ecco, queste informazioni penetrano nel corpo che ne riceve il giusto beneficio. Ecco perché c'è il numero 5. Le nuove tecnologie, inoltre, ci hanno permesso di creare dischi più piccoli che tu puoi attaccare su entrambi i lati dei tuoi occhiali, stimolando così il cervello. Così quando stai imparando, quando sostieni un esame o quando stai guardando uno schermo digitale, questi dischi aiuteranno le cellule del tuo cervello. Questo perché i due dischi su entrambi i lati dei tuoi occhiali stimolano le informazioni e gli schemi corretti del tuo cervello. Questi sono solamente alcuni dei dispositivi che stiamo lanciando nei prossimi mesi. E noi speriamo che tu possa far parte della squadra che aiuterà l'umanità. Contattaci Epi Nutricel SRL La Spezia per info 393 914 2000 0187 1780 859 per info epinutricel chiocciola gmail.com 0188 259 0188 259 0188 269 Perscherzzi